E' sempre emergenza nel canale di Sicilia, dove nel weekend la marina militare italiana ha soccorso complessivamente 599 migranti. A Pozzallo, nei giorni scorsi, ne sono approdati 105 e le forze dell'ordine hanno fermato due presunti scafisti. Uno dei due aveva già dei precedenti ed era stato condannato per gli stessi reati nel 2011. Nel frattempo è allarme per i scafisti, così come è denunciato stamani a Radio Rai da Maria Francesca Pricoco, presidente del Tribunale Minori di Catania. I minorenni provengono principalmente dall'Africa centrale e settentrionale. Durante il viaggio cercano di raccogliere il denaro necessario per giungere sulle coste siciliane e quando arrivano in Libia, con minacce e torture, vengono imbarcati sui gommoni. Le organizzazioni che si occupano di sbarchi fornirebbero ai baby scafisti indicazioni precise sulle rotte e sulle zone in cui dover chiamare soccorsi per il salvataggio dei migranti.